Marche, vicino al ritorno in zona gialla, si tenta la riapertura alle cene. Focolaio all'ospedale di Fano, la situazione torna sotto controllo. Biodigestore, Pesaro punta su Talacchio ma propone un piano B. Tornano i bonus pesa dal 6 dicembre, nuovi voucher alle famiglie pesaresi. Buona serata, eccoci pronti per il nostro telegiornale, come di consueto l'appuntamento di tutte le sere alle 19.40 in replica anche alle 20.40. Oggi è martedì 1 dicembre, questa sera partiamo parlando del passaggio delle Marche da zona arancione a zona gialla. Un allentamento di restrizioni sul quale arrivano buone rassicurazioni anche dalla stessa giunta regionale, come vediamo in questo primo servizio di Daniele Sacchi. Giorni decisivi per il cambio di colore regionale. Le Marche cominciano a vedere da vicino il passaggio da zona arancione a zona gialla, già dalla serata di giovedì 3 dicembre. Un cambio cromatico cucito sul filo diretto della conferenza Stato-Regioni. Salvo colpi di scena, giovedì sera saremo di nuovo a zona gialla. Così ha rassicurato attraverso il proprio profilo Facebook il vicepresidente della giunta regionale, Mirko Carloni, che ha rappresentato le Marche alla conferenza Stato-Regione in luogo del governatore Francesco Acquaroli impegnato in un webinar di Confindustria. Esultanza social molto simile anche per un consigliere regionale d'opposizione come Micaela Vitri. Il passaggio a zona gialla, che per le Marche correrebbe di pari passa a quello dell'Emilia-Romagna, transita in queste ore per l'esame del governo verso la stesura di un nuovo DPCM. Ma le Marche, durante la conferenza Stato-Regioni, hanno proposto anche altri correttivi, ad esempio che bar e ristoranti possano rimanere aperti anche a cena. Insomma, l'intenzione di passare da una zona arancione, che esclude ogni servizio diverso da quelli di asporto e consegne a domicilio, ad una zona gialla più soft rispetto a quella che tre settimane fa prevedeva che i ristoranti potessero rimanere aperti a pranzo con chiusura alle 18. Insomma, l'intenzione espressa è quella di equiparare bar e ristoranti ai negozi, cioè con aperture prolungate fino alle 22. Le Marche sono attualmente classificate come regioni a rischio moderato di contagio con RT minore di 1, il che significa che una persona può contagiarne un'altra, ma che dunque le probabilità di contagio sono ben inferiori ad altre aree geografiche. Il ritorno a zona gialla passa soprattutto attraverso il monitoraggio dei focolai. Il più delicato in questi giorni è rappresentato dal caso dell'ospedale Santa Croce di Fano, dove secondo l'aggiornamento però di oggi pomeriggio, la situazione si sta gradualmente normalizzando. Sono infatti risultati negativi al secondo tampone i 25 pazienti collocati nella cosiddetta area grigia, dove sono stati ricoverati per altre patologie. A cinque giorni dall'accensione del focolaio, che si era manifestato nei reparti di medicina e gastroenterologia, restano dunque 24 i pazienti positivi asintomatici, che sono stati isolati nella palazzina C per patologie diverse dal Covid. Attualmente Marche Nord ha 124 pazienti Covid positivi, di cui 100 ricoverati al San Salvatore e 24 a Fano. Per riportare il Santa Croce allo stato di Covid free, sono in via di dimissione 21 pazienti che saranno trasferiti in strutture residenziali. Ma andiamo anche a vedere l'aggiornamento per quanto riguarda i dati del coronavirus in questo primo giorno di dicembre. Sono 337 i contagi in regione nelle ultime 24 ore, su 1.213 nuove diagnosi, per un totale di 2.349 tamponi effettuati. Rispetto agli ultimi giorni trascorsi costantemente a tripla cifra, scendono oggi a 93 i contagi nella provincia di Pesaro Urbino. Ricoveri stabili nelle Marche con 672 pazienti, di cui 86 in terapia intensiva. Ieri, lunedì, si è tenuto il consueto Consiglio Comunale a Pesaro, un'assise che appoggia la proposta del sito di Talacchio per la realizzazione di questo famoso biodigestore in provincia, ma che ha anche votato un ordine del giorno che impegna Pesaro a individuare un eventuale piano B, alternativa nel caso dovesse decadere la prima scelta di Vallefoglia. Ci troviamo in strada dei Pioppi, non lontano dal casello autostradale di Pesaro. Queste ampie aree verdi rappresenterebbero una sorta di piano B alla realizzazione delle biodigestore nella provincia di Pesaro Urbino, sorta di piano B proposta dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci in Consiglio Comunale. Si tratta di un'area di 85 metri quadrati che è già stata oggetto di ricognizione da parte degli uffici urbanistica e ambiente del comune. Un sito alternativo nel caso non andasse a buon fine la proposta di Talacchio nel comune di Vallefoglia. Talacchio che resta però attualmente la zona in netto vantaggio nelle ipotesi. La zona individuata in strada dei Pioppi è infatti nata dalla necessità del comune di proporre un suo sito alternativo, ma è una scelta che ad oggi si scontra con parecchi ostacoli. Innanzitutto, il terreno indicato da Ricci è di proprietà privata. Appartiene a Vittorio Livi, titolare dell'industria Fiam, che a mezzo stampa ha già indicato come l'area non sia in vendita né sia pensata per una destinazione d'uso come quella della realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti. Un'area su cui lo stesso Livi ha anticipato di avere progetti di sviluppo specifici per la sua azienda. In secondo luogo, la stessa ipotesi è stata oggetto di scontro nel Consiglio Comunale tenutosi ieri lunedì 30 novembre. Nell'assise, infatti, c'è stato un punto di convergenza comune sulla necessità della realizzazione del digestore e dei suoi benefici nella gestione del ciclo dei rifiuti provinciali. Allo stesso tempo c'è stato uno scontro fra la maggioranza che ha portato al voto e all'approvazione un ordine del giorno che impegna ad individuare un sito alternativo dove ospitare l'impianto in una logica di percorso partecipato a livello provinciale con Fano, Vallefoglia e Urbino. La minoranza in Consiglio Comunale ha però ritenuto in idoneo il sito qui in zona Torraccia per una serie di problematiche a cominciare dalla vicinanza col fiume Foglia che ha circa 200 metri e appunto è al rischio medio di esondazione che presenterebbe questa collocazione. E dal Consiglio Comunale passiamo alla riunione di giunta che c'è stata proprio questa mattina nel comune di Pesaro che ha approvato una variazione di bilancio che porta ad un nuovo investimento di 400 mila euro in buoni spesa alle famiglie pesaresi in difficoltà. Il sindaco Matteo Ricci e l'assessore alla solidarietà Sara Mengucci hanno annunciato che dal 6 al 12 dicembre i volontari di quartiere torneranno infatti a recapitare altri voucher alle 1.569 famiglie che avevano ottenuto il bonus spesa a novembre. Voucher che avranno gli stessi importi del mese scorso in risposta al perpetrarsi delle criticità relativi proprio alla pandemia. Sono stati stanziati anche 35 mila euro per le famiglie in difficoltà che non sono riusciti a fare richiesta nella precedente chiamata di novembre ma non è l'unica novità perché questa mattina il comune ha deciso anche di stanziare nel bilancio di previsione 2021 250 mila euro per un fondo anticrisi che sarà destinato alle emergenze abitative. E restiamo in tema di sostegni perché è stato cancellato il pagamento della TOSAP per le attività commerciali relative proprio alle mensilità dell'anno 2020 colpite appunto dal Covid-19. Sentiamo quindi a tal proposito il commento del segretario della Confcommercio Pesaro Urbino Davide Ipaso. Nel momento in cui tu non dai l'opportunità ai pubblici esercizi di poter lavorare liberamente negli spazi loro attivando i protocolli Covid che sono restrittivi hai dato l'opportunità a tutti di poter allargare la TOSAP per la parte esterna. Questa è stata data gratuitamente. In più la TOSAP normale che un operatore usava nei mesi del Covid e quindi dei dpcm di chiusura, di restrizione viene annullata e nel senso che gli otto mesi per i comuni di Pesaro questo è un ringraziamento che facciamo al comune perché i comuni limitrofi non l'hanno ancora attivata e qualcuno darà soltanto tre mesi concede l'opportunità di recuperare con un rimborso gli otto mesi e il pagamento della TOSAP di otto mesi. Per i pubblici esercizi, i ristoranti e i bar sarà con il rimborso entro fine anno. Per quanto riguarda invece gli operatori commerciali, gli ambulanti sarà un conguaglio rispetto a quello che dovrebbero pagare nel 2021. Quindi il 2021 invece di pagare la quota per intera verrà ridotta della quota che era imputabile al 2020. Sono queste le boccate di ossigeno anche perché i ristori arrivano col contagocce in più il ristoro è un'esigua parte della perdita che c'è nei mesi di chiusura e dà l'opportunità alle persone di poter respirare anche se molti mi stanno dicendo che i pagamenti, che ciò che gli sta arrivando adesso gli serve esclusivamente per pagare gas, luce e acqua quindi praticamente dà l'opportunità di poter sopravvivere fino al fine anno in attesa di un 2021 sicuramente migliore. Conto alla rovescia per Natale più di Fano è in programma per giovedì 3 dicembre, infatti proprio questa settimana Alle ore 21 l'evento inaugurale dell'edizione 2020 un grande spettacolo di musica e danza con l'immancabile accensione dell'albero di piazza 20 settembre Vi ricordiamo che trasmetteremo l'accensione dell'albero di Natale di Fano venerdì sera in prima serata alle ore 21 e 15 Di giorno l'attesa, di notte la magia Quella di un Natale diverso dal solito ma che è finalmente ai nastri di partenza Giovedì 3 dicembre andrà infatti in scena la grande inaugurazione del Natale più fanese Uno spettacolo serale a 360 gradi che unirà musica e danza fino alla suggestiva accensione dell'albero di piazza 20 settembre prevista per l'eventuno in punto Data la situazione, non sarà possibile assistere di persona allo show inaugurale Per gli spettatori di Rossini TV l'appuntamento è per venerdì sera Si terrà giovedì sera a 3 dicembre alle ore 21 in diretta sulle tv locali in diretta su tutti i canali social del comune di Fano Visit Fano e venerdì sera si potrà vedere anche su Rossini TV l'accensione del Natale fanese l'accensione di tutti l'illuminazione che di per sé si porta un messaggio di solidarietà di speranza per il futuro visto il difficile momento Io devo ringraziare l'Orchestra Sinfonica Rossini Aurora Ginnastica il Teatro della Fortuna perché è veramente un momento in cui le eccellenze della città si riuniscono per dar proprio luce alla città Non mancheranno gli auguri e i messaggi di speranza del sindaco Massimo Seri ma la serata sarà anche l'occasione per dare spazio a tre eccellenze della città a partire dalla location Il Teatro della Fortuna che ospiterà l'Orchestra Sinfonica Rossini e le atlete della Ginnastica Aurora fresche vincitrici di un titolo nazionale coreografate da Paola Porfiri saranno loro a sfiorare il grande albero e a illuminare così tutto il centro storico La Società Aurora di Ginnastica Ritmica ha accolto positivamente l'invito dell'amministrazione a essere parte di questo spettacolo di accensione delle luci natalizie lo ha accolto anche nello spirito di resilienza, di sacrificio ma anche di determinazione che è caratteristico di questo Natale Ricordiamo che sono ragazzi che a distanza di un mese hanno vinto un titolo italiano ragazze che oggi onorano tutta la città e quindi vogliono insieme alla città portare un augurio nelle vostre case L'Orchestra Sinfonica Rossini assieme alla Fondazione Teatro della Fortuna ha deciso in questo dicembre di organizzare alcuni eventi il primo di questi supporta un momento importante per l'amministrazione e per tutta la città che è l'accensione dell'albero e in generale le luminarie abbiamo immaginato di dare nella sobrietà che il momento richiede valore a delle eccellenze fanesi alcune sono le nostre maestranze, i nostri artisti, i nostri professori d'orchestra saranno in 15 per questo piccolo spettacolo e poi avremo 5 ginnaste della ritmica dell'Aurora Fano che recentemente appunto ha conquistato uno scudetto saranno tre brani, dico solo qualcosa un po' di più sul primo poi gli altri lasciano un po' di suspense il primo sarà il primo movimento del concerto grosso palladio scritto da Carl Jenkins è un brano molto ritmato e quindi ci sembrava perfetto per la ginnastica ritmica poi avremo un secondo e un terzo brano di cui il primo avrà un carattere disteso come vuole essere questo periodo natalizio e l'ultimo un po' più maestoso in onore appunto al momento dell'accensione dell'albero Ed ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni allora vi consigliamo sempre di prendere nota di salvare sul vostro cellulare questo numero che vedete in sovraimpressione e mandarci le vostre segnalazioni oggi le nostre telecamere sono andate nella pista ciclopedonale a Tigua a Via Colbe dove un nostro telespettatore ci ha denunciato una situazione di incuria che vi mostriamo appunto in questo servizio Ci troviamo oggi sul tratto di pista ciclopedonale di Via Colbe il vecchio tratto di ciclabile parallelo alla ferrovia e alla bicipolitana che si collega fino a Fano costeggiando tutta la zona mare siamo qui per rispondere alla segnalazione di un nostro telespettatore un telespettatore disabile che vive con le difficoltà della sua condizione in un tratto che presenta tante situazioni di incuria a cominciare dai rifiuti che regolarmente si accumulano e vengono ignorate le normali procedure di raccolta ma anche una situazione di verde pubblico fuori controllo con tante erbacce che vanno a propagarsi sul tratto stradale con tutte le complicazioni del caso il telespettatore che ha chiesto l'intervento di Rossini TV abita nel complesso residenziale dei Gelsi a pochi passi dalla sede pesarese di Confcommercio e al tratto ciclopedonale in questione su questo tratto ha fisso danni una serie di cartelli che invitano perlomeno i padroni di cani ad avere cura dei bisogni dei propri amici a quattro zampe perché quello che un basilare rispetto del senso civico diventa un problema aggiuntivo per chi è su una sedia a rotelle anche perché se su questo tratto i rifiuti continuano ad accumularsi non fanno una fine troppo diversa agli escrementi animali quanto ai rifiuti chi ci ha segnalato il problema non solo sollecita da una raccolta più regolare di questi bidoni traboccanti ma fa anche notare che il peccato originale sta nell'aver predisposto un solo cestino su un chilometro di ciclabile altro problema la vegetazione che invade la strada e qui la sollecitazione è un intervento di potatura o polizia almeno di un paio di volte l'anno anche perché non c'è solo l'erba terra ma c'è anche un'invasione di rovi pericolosa per chi transita in bicicletta un'incuria ma anche un paradosso quello di uno stato d'abbandono che mal si concilia con un importante investimento in lampioni a led che illuminano il tratto ciclopedonale Avete visto in questi giorni la pubblicità sulla nostra emittente televisiva di promozione di due corsi che ci saranno a Fano due corsi di formazione professionale promossi dal comune di Fano si tratta di corsi completamente gratuiti per il conseguimento della qualifica in tecnico del marketing turistico e addetto alle attività di promozione e accoglienza turistica due corsi fortemente voluti dall'amministrazione comunale di Fano che ha indicato nella cultura e nel turismo il punto focale del prossimo sviluppo cittadino dalla candidatura a capitale italiana della cultura 2022 alla candidatura a capitale del libro 2021 fino alla fabbrica del carnevale quest'ultima infatti non prevede soltanto il progetto di riqualificazione dell'ex collegio del Sant'Arcangelo di Fano ma anche l'attivazione di nuove funzioni per la promozione culturale cittadina come i nuovi corsi che sono destinati a 15 partecipanti per ciascun progetto e si rivolgono a persone disoccupate residenti o domiciliate nelle marche il modello di iscrizione è scaricabile sul sito web del comune di Fano e le domande vanno presentate entro il 10 dicembre da domani 2 dicembre fino al 10 gennaio il centro storico di Urbino sarà aperto al traffico dei veicoli dalle 7 alle ore 22 l'accesso sarà consentito da tutti i varchi della ZTL in tutti i giorni festivi inclusi è questo il risultato dell'ordinanza emessa dal sindaco Gambini che ha accolto le richieste dell'associazione commercianti di Urbino alla crisi economica dovuta alla pandemia il comune risponde dunque aprendo ad una maggiore fruibilità del centro durante le festività natalizie è stato presentato oggi dall'AMAT il nuovo progetto Amato Teatro a Casa Tua si tratta di 5 grandi spettacoli in live streaming realizzati dalla Fondazione Teatro della Fortuna e dai comuni di Fano Pesaro, Senigallia, Recanati e Urbino assieme a Regione Marche e Mibact saranno grandi attori e attrici ad esibirsi nei teatri marchigiani come Valeria Scalera che l'11 dicembre al Teatro Persiani di Recanati aprirà la rassegna con la storia di Re Lir si continua il 18 dicembre al Rossini di Pesaro con il musicista Francesco Bianconi dei Baustelle che proporrà lo show Forever Accade e ancora il 23 dicembre al Sanzio di Urbino il primo miracolo di Gesù Bambino con Mattias Martelli il 27 dicembre la Fenice di Senigallia Francesca Reggiani proporrà quello che le donne non dicono gran finale al Teatro della Fortuna di Fano l'1, il 2, il 3 gennaio con Mariangela Gualtieri in Il Quotidiano Innamoramento e parlando di teatro in streaming la sessione autunnale del Rossini Opera Festival a porte chiuse ha registrato un successo oltre ogni previsione sono stati infatti 218 mila le visualizzazioni uniche ai canali streaming del ROF spettatori provenienti da 177 nazioni che hanno assistito a diversi spettacoli proposti tra i quali la Messa di Milano il Miserere il Barbiere di Siviglia di Pierluigi Pizzi e il Viaggio a Reims di Emilio Sagi in questo ultimo servizio ci occupiamo delle eccellenze marchigiane eccellenze vinicole e olearie della nostra regione appunto con la pubblicazione della Guida Le Marche nel Bicchiere 2021 Vini e oli spumanti e passiti il tutto in 500 pagine da sfogliare in un viaggio esplorativo nel gusto e nell'instancabile produzione delle colline che si diramano da Pesaro ad Ascoli Piceno eccola la Guida delle Marche nel Bicchiere 2021 curata dall'Associazione Italiana Sommelier Marche una Bibbia dell'enoturismo regionale giunta alla tredicesima edizione ma anche delle sempre più eccellenti produzioni di olio che le Marche mostrano con orgoglio una regione che oggi schiera 5 vini di denominazione controllata e garantita 15 doc e un IGT che valorizzano vitigni autoctoni e di antica coltivazione impegnando 17.500 ettari vitati dobbiamo essere molto fieri del nostro settore vitivinicolo e oleario abbiamo delle grandi eccellenze nella nostra regione 15 doc 5 di OCG una IGT dobbiamo tenere alto il valore di queste produzioni così diversificate che hanno beneficiano di una forte componente anche di investimento noi col PNS quest'anno vorremmo ulteriormente potenziare la crescita qualitativa di investimenti di vinificazione di promozione di questi vini per farli diventare eccellenze riconosciute in tutti i mercati imponendolo sui mercati internazionali le marche hanno una grande qualità produttiva abbiamo delle aziende meravigliose anche le piccole sono straordinarie come aziende quindi la nostra diversità deve diventare un punto di forza e l'obiettivo che avremo nei prossimi anni è quello di migliorare il processo di produzione del vino e riuscire a migliorare anche la capacità di venderlo alzando il valore del prodotto stesso la stessa cosa si può dire per l'olio dove abbiamo tante produzioni di olio dove la regione Marche ha un ruolo da protagonista perché con l'Assam fa anche da laboratorio e da certificazione ai produttori creando un ecosistema che in qualche modo premia e valorizza la qualità ormai sono dieci anni che vanno pari passo il vino con l'olio l'olio vuole fare la stessa strada del vino quindi piccole imprese fortemente qualificate qualità e l'olio ha un qualcosa in più che quella della biodiversità pensate che noi abbiamo 23 varietà di biodiversità nelle Marche una delle regioni che ne ha di più con una qualità veramente d'eccellenza e all'interno di questa guida abbiamo la possibilità di conoscere quelle aziende che hanno investito perché bisogna dire che ci hanno investito fortemente sulla qualità sul monovarietale ricordiamo che il monovarietale vuol dire che tutto l'olio al 100% è di una unica varietà coroncina che siano le varietà che noi conosciamo vogliano di di falerone piantone di falerone o altri tipo la scolana quindi e sulle tavole nostre e anche soprattutto dei ristoranti e degli alberghi vorremmo vedere da adesso in poi gli oli monovarietali perché effettivamente hanno una qualità eccellente e rappresentano il nostro territorio perché una varietà diciamo esprime la sua potenzialità produttiva anche con i sapori e con tutto quello che è poi voi lo sapete il palen che è la valutazione di queste dell'olio proprio perché diciamo produce in quel territorio in quel terreno quindi ecco qualità territorio e ambiente e questa è l'arma vincente del nostro olio ed ora il consueto appuntamento con la programmazione di Rossini TV questa sera vi consigliamo alle 21 e 15 di guardare questo bel film documentario ma tu hai anche lavorato o hai sempre fatto l'attore è un lungometraggio risalente al 1999 di Giorgio Ricci del cine club Cesare Pandolfi di Pesaro in cui l'attore di prosa Claudio Sora figlio del noto ceramista racconta la sua vita quindi non perdetevi questo bel racconto questo bel film e poi ancora andiamo avanti l'appuntamento domani torna a casa Rossini tanti gli ospiti potete fare anche delle dediche di video musicali quindi scrivete segnatevi questo numero di whatsapp oppure scrivete all'indirizzo mail domani vi aspettiamo in diretta alle ore 10 e vi ricordiamo che c'è stato un cambio d'orario in tanti ci avete chiamato perché non avete visto più le lezioni di FixFit ebbene sì abbiamo dovuto fare dei cambi d'orario nel nostro palinsesto ma FixFit torna e sempre con voi Katia e Tiago vi allenano ogni giorno per due appuntamenti alle 9.30 e alle 17.30 da lunedì al venerdì quindi ho detto davvero tutto vi ringrazio come sempre per essere stati in nostra compagnia ci rivediamo domani mattina alle 7.20 in diretta con il nostro Buongiorno Rossini con il nostro